Musica Ammontano a 700 milioni di euro i tagli agli enti locali preannunciati dal governo Letta e i sindaci per protesta minacciano di non approvare i bilanci. E' slitato l'accordo sulla città della salute che sorgerà a Sesto San Giovanni. La firma era prevista per oggi ma è stata rimandata. Assemblea pubblica in piazza della Scala di farmacisti e commessi delle farmacie comunali lamentano la decisione di applicare il contratto delle farmacie private. Chiedeva il pizzo ai clienti delle prostitute e con questa accusa è stato arrestato un agente della polizia locale di Carpiano, comune a sud di Milano. Buonasera dal TGN e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Come avete sentito nei titoli del nostro sommario, 700 milioni di euro di nuovi tagli in vista per i comuni. Il governo Letta cerca i fondi per integrare i mancati incassi del Limo. Intanto oggi a Palazzo Marino gli amministratori locali lombardi hanno incontrato il presidente di Anci, Piero Fassino. Nel servizio di Massimo Scarinzi. Si è aperto con il ricordo del sindaco di Cardano al campo Laura Prati di incontro tra i primi cittadini lombardi e Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente nazionale di Anci che si è svolto questa mattina a Palazzo Marino. Sul tavolo la situazione è sempre più drammatica dei tagli agli enti locali da parte dello Stato. In questi giorni infatti è arrivata una nuova richiesta dal Ministero dell'Economia che punta a un'ennesima sforbiciata. Sacco Magni e Letta cercano 700 milioni di euro per compensare il minore introito dell'Imu e per farlo bussano ancora una volta alla porta dei comuni italiani. La richiesta, come è comprensibile, d'altronde viste le proteste che si susseguono da anni, ha scatenato una rivolta che ora rischia di diventare una sorta di guerra permanente tra gli enti locali e Roma. Fassino ha spiegato che Anci ha chiesto un incontro al Governo per discutere il provvedimento. La situazione è a un punto limite, spiegano i rappresentanti degli enti locali, e i tagli non sono più sostenibili. A rischio c'è la tenuta del Paese. Se cedono i comuni, crolla il sistema Italia. Due, le richieste principali di Anci all'esecutivo. L'apertura di un negoziato per affrontare le questioni di sistema, come la riscrittura del patto di stabilità che attualmente vincola le possibilità di spesa, e la ridefinizione del ruolo e dei compiti dei comuni nell'architettura istituzionale. I sindaci protestano per i nuovi tagli e minacciano di non approvare i bilanci. Il Governo deve fare delle scelte precise, non può continuare a rinviare scelte fondamentali per il presente e per il futuro di tutti i cittadini, dei comuni e dei sindaci che rappresentano i cittadini. Noi siamo consapevoli della situazione di crisi generale, ma siamo altrettanto consapevoli che solo dei comuni può risvilupparsi l'economia, può nascere e crearsi nuova occupazione e soprattutto si può dare risposta ai bisogni di chi oggi non ce la fa più. Sindaci sul piede di guerra dopo la richiesta di integrare con taglia e comuni 700 milioni di mancato introito IMU. C'è chi come Enrico Sozzi è arrivato in bici da Settala alla riunione di Anci Lombardia per denunciare che la sua amministrazione non ha più soldi per garantire la benzina alle macchine del Comune. Se il Governo non farà marcia indietro, noi non presenteremo i bilanci. E' questa la minaccia lanciata dai primi cittadini lombardi. Insomma tutti pronti al commissariamento pur di difendere le proprie ragioni contro la scure che colpirà nuovamente gli enti locali. Bisogna che tutti si rendano conto che i comuni non sono centi di spesa parassitari come pensa qualche burocrate romano. Sono erogatore di servizi fondamentali ai cittadini, commesi di nido, scuole materne, trasporto pubblico locale, assistenza domiciliare agli anziani, sostegno ai disabili. E' tutto questo che noi facciamo tutti i giorni. Forse bisognerebbe rendersene conto di più. A guidare la protesta dei comuni lombardi, oltre al sindaco di Milano Giuliano Pisapia, anche il presidente di Anci Lombardia, Tilio Fontana, che spiega quali sono i punti centrali da toccare nel corso dell'incontro richiesto al Governo Letta e quali le richieste da portare avanti. Non è soltanto il patto di stabilità che è la madre di tutti i problemi, ma sono anche i tagli e anche la previsione che è stata fatta in queste ultime ore che una quota dell'Imu non incassata dallo Stato verrà posta a carico dei comuni. Sono tutte cose che ci mettono in una situazione di non possibilità di gestire i nostri comuni. Sono numerose le questioni aperte che la politica milanese e lombarda dovrà affrontare a settembre dopo la pausa estiva, la riforma dell'Aler al Pirellone, la città metropolitana in provincia, soprattutto le tariffe, quelle di ATM in primis, a Palazzo Marino. Jacopo Casoni. La politica va in ferie. Il rompete le righe è già arrivato per comune e provincia. Il Consiglio regionale chiude domani. I primi a rimettere le gambe sotto i banchi saranno i consiglieri di Palazzo Isimbardi. Prima seduta fissata per giovedì 5 settembre. Sul tavolo il piano territoriale e la cessione delle quote di Serravalle, ma la stagione di lavori sarà di fatto un lungo percorso per definire la svolta della città metropolitana, che se la legge passasse così come presentata dal governo, avverrebbe il primo luglio del prossimo anno. A Palazzo Marino, che riapre il 9 settembre, si giocherà la partita del bilancio da approvare entro il 30, a prescindere da eventuali nuove deroghe romane. L'idea della maggioranza è di trovare un accordo che consenta di chiudere in 4 o 5 sedute, ma a sinistra sono pronti a forzare la mano se necessario. C'è da capire cosa faranno gli altri dopo l'ultima gazzarra in aula. Se sarà scontro, prepariamoci ad altre notti in consiglio, ad altri occhi pesti. I milanesi però aspettano soprattutto di capire se i mezzi pubblici costeranno di più. La questione dei ritocchi alle tariffe ATM è di competenza della Giunta, in quanto l'Aula deve licenziare solo eventuali nuove modalità e non variazioni dei prezzi. È chiaro che la discussione in consiglio ci sarà e i toni si alzeranno, ma le modifiche al costo degli abbonamenti entrerebbero comunque in vigore da subito. Entro il 15 settembre c'è da affrontare il nodo delle tariffe dell'acqua, ma un'altra delibera su cui potrebbe accendersi l'aula è quella sull'azonamento acustico. Anche la COSA per la tassa di soggiorno entreranno in consiglio al rientro dalle ferie. Al Pirellone si inizierà a lavorare nelle commissioni dal 2 settembre, ma la prima seduta del consiglio è prevista per il 12. Si ripartirà dall'Aler, dalla riforma già in discussione e che si vorrebbe varare in fretta. Una svolta che interessa gli inquilini delle unità abitative gestite dall'azienda. Circa 100.000 a Milano e provincia, 150.000 in tutta la regione. Partite aperte che contano che si giocheranno subito ad abbronzatura ancora fresca. Sita ancora l'accordo sulla città della salute che sorgerà a Sesto San Giovanni. La firma per l'opera di edilizia sanitaria da 450 milioni di euro era prevista per oggi, ma è stata rimandata. Il rinvio, l'ultimo di una lunga serie, non ha stupito nessuno. Era prevista per oggi, ma è saltata la firma dell'accordo sulla città della salute. Il progetto che prevede l'unione del Neurologico BEST e dell'Istituto dei Tumori nell'area Ex-Falc di Sesto San Giovanni. Un'opera di edilizia sanitaria da 450 milioni di euro, di cui 330 finanziati con soldi pubblici che in tempi di crisi ha suscitato diverse polemiche. Un progetto fortemente voluto dall'ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e dal suo universo di riferimento legato a comunione e liberazione, portato avanti dal suo successore, Roberto Maroni. Dopo un'odissea lunga 13 anni, tra annunci e polemiche, la firma dell'accordo si è arenata davanti a un nuovo stop. Questione di dettagli, fanno sapere da Palazzo Lombardia, la firma arriverà nei prossimi giorni. Un rinvio richiesto dal comune di Sesto San Giovanni che aspetta la seduta del Consiglio di domani proprio sull'argomento città della salute per dare il via libera dopo il parere favorevole del sindaco Monica Chittò. Le perplessità sul progetto restano moltissime, una su tutte legate al perché costruire un nuovo polo sanitario quando con minore spesa era possibile riqualificare le strutture esistenti in città studi e ancora quale sarà il futuro degli edifici milanesi e dell'indotto del quartiere cresciuto intorno a queste due eccellenze della sanità italiana. Perplessità condivise negli ultimi mesi anche dall'assessore Mario Mantovani e dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia che si è detto contrario al progetto di Sesto San Giovanni e si è sfilato pochi giorni fa dall'accordo di programma. Nonostante ciò la firma dovrebbe arrivare entro fine settimana anche se fino a quando non ci saranno i tre autografi nero su bianco tutto potrebbe ancora saltare. La cronaca, sette romeni accusati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e alla riduzione in schiavitù sono stati condannati dal giudice per l'udienza preliminare di Milano valori appena che vanno dai dieci anni agli otto anni e otto mesi di reclusione fino ai sette anni e mezzo di carcere avrebbero reclutato irregalmente dal loro paese d'origine una schiera di connazionali in gran parte disabili li avrebbero costretti con servizi e di ogni genere a mendicare ai semafori e sui vagoni della metropolitana o addirittura a rubare per poi intascare i proventi della cattonaggio e la repurtiva. La decisione è arrivata al termine di un processo che si è celebrato con rito abbreviato. Farmacisti e commessi delle farmacie comunali oggi hanno organizzato un'assemblea pubblica davanti a Palazzo Marino in Piazza della Scala lamentano la decisione di applicare loro il contratto delle farmacie private a rischio anche i posti di lavoro dei commessi come ci spiega Stefano Fumagalli. E' ad menta la società che gestisce le 85 farmacie comunali di Milano e che vorrebbe recedere il contratto di Assofarm e applicare ai lavoratori quello delle farmacie private. Un cambio che si tradurrebbe dicono le parti sociali meno tutele per i farmacisti e che riconsidererebbe la presenza stessa di 52 commessi di farmacia il cui posto di lavoro potrebbe anche essere messo a rischio. Questo tipo di assemblea che facciamo oggi sono legati al fatto di poter chiedere al comune un intervento più deciso affinché ad menta che gestisce le farmacie comunali di Milano per l'80% decida di mantenere il contratto di settore delle farmacie comunali e quindi a questo punto di cambiare idea per quanto riguarda l'applicazione del contratto delle farmacie private. I commessi sono stati dichiarati non utili la figura del commesso non è più essenziale per l'azienda e quindi è stato detto che questi commessi nel giro di non si sa quanto comunque non dovranno più trovare posti in azienda e quindi sostanzialmente dovranno essere ricollocati in altra maniera o licenziati. Il comune di Milano che detiene solo il 20% delle quote dopo la recessione di admenda da Assofarm fa la voce grossa e vorrebbe che qualsiasi decisione fosse da concertare anche con Palazzo Marino. La cosa che noi diciamo è molto semplice all'azienda non vada avanti così come un pugile suonato si sieda a un tavolo a discutere e il comune di Milano esige di avere questa opportunità di far valere come socio di minoranza e come rappresentante degli interessi della città il proprio punto di vista. Senza una casa è costretto a dormire nei centri della Caricas un 71enne è stato anche derubato dei pochi effetti personali che custodiva dentro una piccola valigia è successo oggi a Milano in zona Porta Garibaldi l'anziano stava camminando quando è stato avvicinato da una persona che lo ha aggredito e gli ha portato via la valigetta con tutto quello che possedeva il malvivente è scappato il senza tetto ha denunciato la rapina al commissariato di polizia dopo due giorni di affecaldo intenso a causa dell'anticiclone Caronte in Lombardia stamattina è arrivato il maltempo una tromba d'aria si è abbattuta nella provincia di Milano a Trezzodadda e a Grezzago dieci feriti con una decina di capannoni che sono stati spazzati via addirittura il vento avete visto ha fatto rovesciare un tir un violento nubifragio con forti raffiche di vento si è invece abbattuto sulla provincia di Varese con allagamenti alberi caduti sulle strade e tetti scoperchiati gli interventi dei vigili del fuotoco si sono concentrati in particolare a Busto Arsizio Gallarate e Varese e sulle autostrade a 8 e a 26 a causa della caduta delle piante alcune strade comunali sono state chiuse al traffico una violenta tromba d'aria ha interessato anche Vigevano dove un albero è finito contro il locomotore di un treno anche a Milano diversi alberi sono caduti le immagini che vi proponiamo postate su internet agli utenti di You Reporter documentano la violenza della pioggia e delle raffiche di vento in città danni anche a Rocco un attimo di paura per la caduta di alcuni rami nella zona del mercato a Settimo il vento ha ribaltato un camion a bollate un albero si è abbattuto su un'auto in sosta Cinesello Balsamo tra le località più provate del maltempo a Mandello Lario nelle chiese un ipocastano è stato abbattuto dal vento distruggendo un'auto un miliardo di danni in agricoltura tra Piemonte e Lombardia sono stati stimati in queste ore Ennesimo e drammatico caso di violenza sulle donne teatro dell'episodio stavolto un paese della zona di Vimercate l'uomo originario di Trapani un operaio 47enne con qualche precedente penale ha violentato la moglie davanti ai figli è stato proprio uno di loro ad allertare i carabinieri appena il padre si è allontanato dall'abitazione la coppia residente a Vimercate era di fatto separata i due infatti avevano avviato da mesi il procedimento di separazione è stato arrestato a Carpiano un agente della polizia locale una comune a sud di Milano l'accusa è di aver chiesto il pizzo ai clienti delle prostitute 100 euro invece della sanzione prevista di 500 euro l'indagine è partita dopo le dichiarazioni delle ragazze provenienti dall'est Europa il servizio il pizzo invece della sanzione del verbale quando il cliente approcciava su strada una prostituta aveva deciso di arrotondare così le proprie entrate un agente della polizia locale di Carpiano fermando in flagranza gli avventori che cercavano di avvicinare le donne di mestiere sulle strade del comune 4.000 abitanti a due passi da Meleniano ma una zona abbastanza campestre da avere un discreto via vai di clienti in cerca di attenzioni a pagamento un business che ha iniziato a interrompersi quando la gente ha aumentato il proprio zelo al contrasto del fenomeno ma per un tornaconto tutto personale tanto da far scattare i controlli per voce delle stesse prostitute che hanno denunciato i movimenti del vigile in cerca di soldi facili il meccanismo era semplice le opzioni per i clienti colti sul fatto solo due accettare la multa da 500 euro con verbale oppure pagare subito in contanti tra i 50 e i 100 euro e chiuderla lì niente sanzione gli uomini avvicinati anche nelle auto una volta appartati con le donne pagavano subito e si dileguavano provocando l'ira delle prostitute che alla lunga vedevano scemare i propri affari e così le dichiarazioni delle ragazze per buona parte provenienti dall'est Europa hanno fatto partire le indagini ora il vigile è finito agli arresti domiciliari su ordine del GIP del tribunale di Lodi l'accusa è di concussione per avere storto denaro ai clienti delle prostitute l'indagine è stata coordinata dal procuratore Vincenzo Russo era alla guida di un'auto intestata a un prestanome senza patente italiana e con un'assicurazione falsificata sulla base di moduli originali che però erano stati rubati ed è stato inseguito bloccato perché dopo una manovra azzardata è investito un motociclista ed è fuggito senza prestare soccorso non si è fatto mancare niente il 37enne marocchino in Italia senza permesso di soggiorno fermato e arrestato dalla polizia locale di Milano l'episodio è avvenuto in piazza Nigra all'angolo con viale Jenner dove l'automobilista è motociclista che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite ed è subito scappato una pattuglia della polizia locale che era già nella zona ha notato la Fiat Punto sfrecciare a tutta velocità verso via Bovisasca e ha intimato senza esito l'alta al conducente quest'ultimo ha accelerato e ha proseguito alla sua fuga fino a via Vare dove è stato successivamente bloccato anche i giovani lombardi che non sono andati per vari motivi anche economici in Brasile hanno avuto la loro giornata mondiale della gioventù è avvenuta presso il santuario di Caravaggio dove si è svolta la veglia di preghiera è una celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivesco di Milano Cardinale Scola a cui hanno partecipato oltre 3.000 ragazzi lombardi in servizio di Anna Maria Braccini sono arrivati in forze fin dal primo pomeriggio di sabato hanno pregato riflettuto compiuto l'adorazione eucaristica e la veglia collegandosi in diretta con Copacabana con il Papa e i loro coetane non sono i 3.000 giovani lombardi che hanno voluto essere presenti alla GMG pur essendo rimasti a casa attraverso la veglia promossa dagli oratori delle diocesi lombardi svoltasi presso il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio e così dopo l'emozione notturna della veglia il risveglio un po' lento inizia la celebrazione eucaristica preceduta dal canto delle lodi e sono i ragazzi tutti in piedi sul prato il cardinale Scola metropolita di Lombardia presiede la messa concelebrata dai vescovi delle diocesi della nostra regione da decine di sacerdoti come momento conclusivo dell'evento e subito esprime la sua gioia nel vedere i giovani che definisce carissimi amici un appello venuto dall'arcivescovo che cita Papa Francesco a essere protagonisti veri e vivi della propria vita non sarete il futuro se non siete il presente se non siete adesso se non sei se non sei adesso non sarai il futuro sì è assolutamente vero e lo condividiamo e ogni giorno tentiamo sempre di fare comunque il nostro piccolo qualcosa insomma per passare da un cristianesimo di convenzione a uno di convinzione se io penso di sì penso che che questo è anche il frutto di una capacità educativa che le nostre chiese e tra esse la chiesa ambrosiana mantiene questa capacità educativa è legata alla persistenza nella nostra diocesi di una chiesa di popolo cioè di una chiesa che ancora manifesta capacità di coinvolgimento globale ed ora vediamo insieme quali sono gli appuntamenti in onda stasera su Telenova a cominciare dalle 19.45 con il nuovo stadio sprint dove ovviamente si parlerà del nuovo calendario della serie A che è stato diciamo varato in questi minuti ne parlerà ovviamente il nostro Michele Marchetti con i suoi ospiti tra cui c'è anche Alessio Grosso alle 19.45 nuova stadio sprint dunque alle 20.30 Franco Bobbiese i suoi ospiti parleranno di motori in griglia di partenza noi ci rivediamo a mezzanotte e mezzo per l'edizione della notte del nostro notiziario che termina qui per quanto riguarda l'edizione della sera grazie per averci seguito buona serata e arrivederci a mezzanotte 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 a mezzanotte